Benvenuti nella playlist dedicata al gioco dello shogi. In questo video vengono introdotte le basi del gioco, dallo shogi ban, ovvero la scacchiera, fino ai pezzi in mano ai giocatori. In questo video vengono, lo shogi ban si compone di 81 celle, 9 celle per il lato orizzontale e 9 celle per il lato verticale. Come negli scacchi esistono delle coordinate. L'origine del sistema di coordinate è in alto a destra. Normalmente sono solo numeriche, da destra verso sinistra e dall'alto verso il basso. Ad inizio partita i due avversari posseggono 20 pezzi ciascuno e chi si avvicina per la prima volta al gioco, osserverà subito la mancanza di simboli, forme identificative o colori d'appartenenza dei pezzi. Tutti i pezzi hanno infatti la stessa forma, un pentagono allungato longitudinalmente. In alcuni set di gioco le dimensioni aumentano con il crescere dell'importanza del pezzo. Il pezzo viene riconosciuto non da un simbolo o forma specifica, ma dalla scritta in kanji. I set semplificati hanno un solo kanji per pezzo, ma i più complessi e curati ne hanno due sovrapposti. Alcuni video reperibili online mostrano l'accuratezza degli artigiani giapponesi nella realizzazione dei set da gioco, a cominciare dalla scelta del legno, della fiammatura, delle incisioni e delle laccature. Per i principianti del gioco è vivamente consigliato usare pezzi dalla grafia semplice. In tutti i casi esistono trucchetti mnemonici per riconoscere i pezzi accostandoli ad immagini facilmente riconoscibili per gli occidentali. Come già accennato, i pezzi non indicano in alcun modo il possessore, ad eccezione dei re Gyokushu e Osho. Se non fosse per una piccola virgoletta nel Gyokushu, i kanji sarebbero praticamente identici. Tutti gli altri pezzi sono effettivamente identici e l'appartenenza viene riconosciuta dalla sola direzione. La base del pentagono è rivolta verso il proprietario, mentre la punta è diretta verso l'avversario. Questo espediente è motivato dal fatto che, eccezione fatta per i re, tutti i pezzi possono essere catturati e successivamente reimpiegati dal giocatore che ha precedentemente effettuato la cattura. Di fatto i pezzi cambiano bandiera durante la partita. Per riconoscere e dannotare i movimenti, è importante ricordare che l'orientamento dello Shoghiban si basa su di un sistema d'assi con origine in alto a destra, da destra a sinistra e dall'alto verso il basso. Le celle vengono quindi identificate da due numeri, colonna e riga. Inizialmente i pezzi vengono schierati sulle prime tre righe, 9, 8, 7 e 1, 2, 3. Anticipo ora alcune regole che sono fondamentali nel gioco dello Shoghi, ma che approfondirò in un altro video, ma servono per meglio comprendere il comportamento e la modalità d'uso di alcuni pezzi. Le aree di partenza per i pezzi schierati, tre righe per ogni giocatore, corrispondono anche ad aree di promozione per l'avversario. Ogni giocatore ha quindi a disposizione un'area di partenza per i propri pezzi e dalla parte opposta della scacchiera un'area di promozione. I pezzi che entrano, escono o transitano attraverso l'area di promozione hanno il diritto o in alcuni casi l'obbligo alla promozione. Fanno assoluta eccezione il generale oro e i re che non possono essere promossi. In mancanza di obbligo alla promozione, il giocatore può scegliere, naturalmente per propria convenienza, di non far promuovere il pezzo. Se si sceglie di promuovere il pezzo, lo si fa al termine del movimento, come parte conclusiva dello stesso. Quindi si prende il pezzo, lo si gira sulla faccia opposta mostrando il nuovo kanji che descrive il nome del pezzo promosso. Circa al paracadutaggio bisogna tenere conto che tutti i pezzi, ad eccezione dei re, possono essere catturati dal giocatore avversario. Un giocatore può quindi catturare un pezzo avversario, promosso o non promosso, e metterlo nella propria disponibilità, cioè portandolo al di fuori dello shogi ban. Dovrà mostrare il pezzo all'avversario, non lo potrà tenere nascosto, e lo dovrà considerare comunque col valore del pezzo di partenza, cioè del valore base. In caso di necessità, il giocatore, con la disponibilità di un pezzo tenuto fuori dallo shogi ban, perché catturato precedentemente, potrà reimpiegarlo tra le proprie fila, ponendolo all'interno della scacchiera in una cella libera. Come si potrà vedere successivamente, non tutti i pezzi godono della stessa libertà di paracadutaggio. Alcuni di questi hanno dei vincoli che dovranno essere rispettati. Vediamo ora i singoli pezzi a disposizione dei giocatori. Per ognuno vedremo la posizione iniziale, i relativi movimenti che corrispondono alle posizioni di cattura dei pezzi avversari, le possibili promozioni, ed anche i movimenti dei pezzi promossi. Al centro dello shogi ban appare il nome del pezzo in italiano e sotto in inglese. La lettera maiuscola rossa serve ad indicare il carattere utilizzato nelle notazioni in inglese dello shogi. Ogni giocatore ha a disposizione un re che in realtà è un generale. La difesa del re e l'attacco di quell'avversario è la ragione per cui si gioca. Un re sotto scacco non evitabile porta alla sconfitta. L'attaccante non è però tenuto ad avvertire l'avversario della minaccia di scacco. I re si muovono in tutte e otto le caselle confinanti. Le stesse otto caselle sono controllate e permettono al re la cattura dei pezzi avversari. Ovviamente non può catturare pezzi avversari protetti o muoversi in caselle che siano sotto il controllo dell'avversario. Una piccola precisazione. A sinistra vediamo il generale reale Osho, mentre a destra osserviamo il generale di Giada o generale gioiello Gyokusho. Ad inizio partita ogni giocatore ha a disposizione due generali Oro posti ai fianchi dei rispettivi re. I Kinsho possono muovere e catturare nelle celle evidenziate a video. Per i generali Oro non è prevista la promozione. Sono pezzi praticamente indispensabili in fase difensiva e molto utili in finale di partita. L'arretramento del pezzo è fortemente limitato ad una sola casella. Procedendo verso l'esterno della scacchiera dello Shogiban, ai fianchi dei generali Oro si trovano i generali Argento. Come nel caso precedente, ogni giocatore ad inizio partita ha a disposizione due generali Argento, i cosiddetti Silver. Il Ginsho, a destra, può essere promosso Narigin, il pezzo visibile a sinistra. I movimenti del generale Argento sono più agili rispetto al generale Oro, consentendo un arretramento sulle diagonali. Contrariamente al generale Oro, l'argento non possiede il controllo e la possibilità di muoversi in tre delle quattro caselle ortogonali. Questa caratteristica lo rende più vulnerabile rispetto al generale Oro e da ciò deriva un uso più dinamico nel medio gioco. Non bisogna comunque dimenticare che almeno un generale Argento è comunemente impiegato in fase difensiva nella costruzione dei cosiddetti castelli o cacoi. Una volta promosso, il generale Argento diventa Narigin. Questo pezzo, come si vede a sinistra, ha le stesse caratteristiche di movimento e controllo di un generale Oro. Ai fianchi esterni del generale Argento trovano posizione i cavalli o Keima. Ogni giocatore all'inizio partita ne ha a disposizione due. Come negli scacchi, il cavallo mantiene un caratteristico movimento AL, avanza di due caselle e si sposta o a destra o a sinistra di una. Ma contrariamente al cavallo degli scacchi, nello Shogi il cavallo può solo avanzare. Una volta promosso, diventa Katsura e adotta gli stessi movimenti e aree di controllo del generale Oro. Il cavallo si integra nella difesa delle colonne esterne, ma si presta anche ad attacchi insidiosi, soprattutto a seguito di un paracadutaggio, nel medio gioco e in finale di partita. Quando si spinge un cavallo nelle ultime due righe dell'area di promozione, questo deve essere obbligatoriamente promosso. Analogamente, il cavallo non può essere paracadutato nelle due ultime righe dell'area di promozione. Questi due vincoli sono dovuti al fatto che, nello Shogi, è vietato collocare qualunque pezzo in una posizione tale che non ne consenta uno spostamento successivo. In pratica, i pezzi si devono sempre poter muovere, anche a costo di essere mangiati nel turno successivo, ma si devono poter sempre muovere. Ogni giocatore ad inizio partita possiede anche due lance, poste a guardia delle due colonne più esterne dello Shogi Ban. La lancia, Kiosha, a destra dello Shogi Ban, può essere promossa Narikyo, a sinistra. Come si può vedere, anche la lancia promossa assume le capacità di spostamento e controllo di un generale oro. La lancia, come già osservato nel cavallo, può solo avanzare, non può retrocedere. Una lancia nell'ultima riga dell'area di promozione deve obbligatoriamente essere promossa a Narikyo e, nella stessa riga, non può essere paracadutata. La lancia si integra nella difesa delle colonne 1 e 9, ma si presta anche a spinte laterali di pedone in combinazione con altri pezzi offensivi. L'impossibilità a retrocedere la rende difficile da difendere. In riga 2 e 8, alla sinistra del giocatore, trovano posto gli alfieri. Ogni giocatore ha quindi a disposizione un solo alfiere all'inizio della partita. Il Kakugyo è un pezzo prevalentemente offensivo, anche se può trovare impiego al fianco di un castello, che è una struttura difensiva, o come supporto ad un attacco a partire dalle retrovie. È insidioso quindi in attacco, ma è vulnerabile in difesa. L'alfiere può muoversi lungo le diagonali come il tradizionale alfiere degli scacchi occidentali. Una volta promosso a Ryuma, acquisisce il controllo e la capacità di movimento su tutte le otto caselle confinanti. Anche se la promozione comporta un miglioramento della difesa del pezzo, questo difficilmente si adopera in gioco difensivo. Diventa più adatto alla conclusione della partita come supporto ad altri pezzi offensivi, per attacchi diretti o semplicemente per l'interdizione di diagonali scoperte. Come nel caso dell'alfiere, anche la torre a disposizione del giocatore è una soltanto, e si trova in posizione speculare rispetto, appunto, all'alfiere. La torre, o Isha, è il pezzo offensivo per antonomasia. È utilizzabile anche in difesa, ma si corre il rischio di uno scambio svantaggioso se posti sotto eccessiva pressione da parte dell'appersario. Si consiglia di tenere lontano il re dalla torre per evitare una possibile forchetta. In caso di promozione a riuo, come nel caso dell'alfiere, anche la torre, oltre ai movimenti originali, acquisisce il controllo e la capacità di muoversi su tutte e otto le caselle confinanti. La torre promossa migliora la propria difesa, ma difficilmente si adopera in gioco difensivo. È molto più adatta alla conclusione della partita, come supporto ad altri pezzi offensivi, oppure per attacchi diretti o anche semplicemente per l'interdizione di righe e colonne. Ogni giocatore ad inizio partita possiede nove pedoni schierati in riga 7 e 3. Il pedone o fu può muoversi soltanto in avanti ed in una sola casella. Un pedone spinto nell'ultima riga dell'area di promozione deve essere obbligatoriamente promosso a token. Un pedone non può essere paracadutato nell'ultima riga. Il token o pedone promosso acquisisce le stesse capacità di movimento e controllo di un generale oro. Tutti i pezzi sin qui osservati nella loro condizione di pezzo promosso, se catturati dall'avversario, perdono le loro capacità aggiunte, cioè tornano ad avere il valore e la capacità di controllo e movimento del pezzo originale. È per questo motivo che il token o pedone promosso acquisisce un grande rilievo durante la partita, perché il pezzo con la minor capacità di movimento e il minor controllo sullo shogi ban, se promosso diventa come un generale oro, ma se lo si perde, si cede all'avversario semplicemente un pedone. Arrivederci al prossimo video di Introduzione allo shogi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS